Musica Protesta dei cittadini questa mattina davanti alla sede del Tarlazio che dovrà decidere sulla riapertura della stazione della ferrovia di Vigna Clara. Una delegazione ha consegnato alla terza sezione le prime 2000 firme per dire basta e rinvii all'apertura del collegamento ferroviario con la stazione Ostiense pronto da un anno. Domani infatti il Tar deve decidere se accogliere una richiesta di proroga dei tempi di tre mesi concessi alla Commissione Verifica che scadono il 5 agosto facendo slittare il parere che deve giungere prima dell'udienza decisiva di ottobre. Confidiamo che il Tar non conceda ulteriori proroghe in una città con enormi problemi di mobilità e di inquinamento, ha dichiarato Atos De Luca, presidente del Forum Ambiente del PD. Grazie Grazie Grazie